carissimi amici benvenuti all'appuntamento con autofrancia vi ricordo l'indirizzo corso francia 341 a torino restate con noi non perdete questa puntata perché abbiamo riservato per voi delle offerte veramente incredibili ma andiamo con ordine come vedete siamo gli showroom delle autoviture nuove di gamma fiat alfa e lancia g perché troverete qui da noi come sempre all'autofrancia vedete qui di fianco a me 500 x alle mie spalle 500 elettrica prenotate i vostri test drive soprattutto sulla 500 total electric gli ecobonus per questo mese di novembre continuano all'autofrancia quindi avete un risparmio veramente pazzesco vi faccio solo alcuni esempi pensate che potete acquistare fiat panda hybrid a partire da 8.900 euro lancia y hybrid che parte da 9.950 euro e 500 hybrid che parte da 10.800 euro quindi grande grande risparmio sconti fino 8.000 euro se avete l'autovettura da rottomare e se volete acquistare autovetture nuove se invece volete acquistare autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero pensate che l'autofrancia ne ha messe a vostra disposizione oltre 400 tutte in pronta consegna ve le possiamo consegnare in tre giorni quindi veramente consegna rapidissima qui ecobonus e sconti fino al 60 per cento dal prezzo di listino anche sulle autovetture targate quindi chilometri zero aziendali oppure usate parliamo anche delle modalità di pagamento lo sapete all'autofrancia le modalità di pagamento le potete scegliere voi sperimentate il ttc zero pensieri sta avendo un successo veramente pazzesco in modo nuovo di acquistare la vostra autovettura e cioè concorderete un canone bassissimo con i nostri professionisti sia sulle autovetture nuove che sulle autovetture d'occasione aziendali chilometri zero quindi una rata veramente bassa all'interno avete servizi a 360 gradi non dovete pensare più a nulla ma soprattutto non avete più imprevisti non dovete mettere mai mano al portafoglio infatti all'interno avete assicurazione furto incendio attivandalici eventi naturali sociopolitici cristalli avete la casco vediamo cinque anni di garanzia chilometraggio illimitato italiani per cinque anni il cambio gomme sempre il valore a nuovo sulla vostra autovettura quindi qualunque cosa succeda sulla vostra autovettura targata autofrancia pensa a tutto il pacchetto ttc e quando volete potete sostituirla terzo quarto oppure quinto anno senza nessun problema questo lo potete scegliere voi oppure ci sono anche i finanziamenti tradizionali finanziamenti con fcv con minerate che pensate per questo mese partono da 99 euro al mese quindi come vedete le soluzioni finanziarie all'autofrancia le facciamo su misura per voi adesso restate con noi ci trasferiamo nei padiglioni dell'autovettura ed occasione aziendali e chilometri zero occhio perché ci sono offerte veramente da cogliere al volo eccoci siamo nel primo padiglione dell'autovettura ed occasione aziendale chilometri zero partiamo subito con la prima offerta parliamo di 500 l 1400 16 valvole 95 cavalli la versione connect siamo al top della 500 l nuova chilometri zero autofrancia la propone a 17.900 euro volendo finanziamento zero anticipo le rate partono da 179 euro mensili vi ricordo che lancia y nuova hybrid con scontro rotamazione questo mese parte da 9.950 euro ma abbiamo anche le chilometri zero abbiamo anche 500 total electric la la versione la prima che sarebbe la top della 500 cambio automatico e tetto panoramico nuova chilometri zero 28.900 euro se volete arrampicarvi in montagna questa è l'autovettura giusta per voi parliamo di panda 4x4 900 twin euro 85 cavalli la versione cross ve la proponiamo a 17.900 euro a renault clio 1.065 cavalli 5 porte la versione life anche questa nuova chilometri zero 13.900 euro volendo posso sperimentare il ttc o fare finanziamento zero anticipo le rate partono da 139 euro mensili vi ricordo che panda questo mese con ecobonus quindi con scontro rotamazione parte da 8.900 euro parliamo di panda hybrid quindi veramente una soluzione fantastica guardate altra soluzione parliamo di casa citroen c3 1200 purteco 83 cavalli la versione shine siamo al top della citroen c3 ve la proponiamo a 16.900 euro e a tutto quello che state pensando hyundai 30.120 cavalli la versione plus pack quindi anche questa qui veramente full optional nuova chilometri zero ve la proponiamo a 18.900 euro volendo finanziamento zero anticipo le rate partono da 189 euro al mese 500x 1.3 120 cavalli la versione citicross nuova chilometri zero a veramente tutto clima automatico navigatore satellitare 19.900 euro con promo ttc 199 euro al mese con finanziamento zero anticipo abbiamo visto casa citroen avete visto la c3 abbiamo anche la c4 qui abbiamo renault captur 1000 tc 90 cavalli la versione intense nuova chilometri zero rigorosamente in pronta consegna nuova chilometri zero ve la proponiamo a 21.900 euro volendo anche qui finanziamento zero anticipo le rate partono da 219 euro mensili oppure potete sperimentare il ttc zero pensieri prezzo promo per questa tipo 5 porte 1000 life 100 cavalli quindi ha veramente tutto la radio touch da 7 pollici bluetooth tutto quello che state pensando anche navigatore satellitare 17.900 euro rate che partono da 179 euro al mese ma vi ricordo che tipo nuova con eco bonus parte da 12.900 euro dacia daxter 1000 tc e 100 cavalli con impianto eco gpl nuova chilometri zero regalata 17.300 euro reneghe da aziendale per 1.600 benzina scusate ve lo proponiamo aziendale a 16.900 euro siamo nel secondo padiglione delle autovetture ed occasione aziendale chilometri zero restate con noi perché l'autofrancia le offerte non finiscono mai come questa fiat tipo 5 porte cross 100 cavalli la versione cross quindi siamo al top della tipo nuova chilometri zero ve la proponiamo a 19.900 euro volendo con finanziamento zero anticipo le rate partono da 199 euro al mese peugeot 2008 1200 purtec 100 cavalli active nuova chilometri zero pronta consegna 21.900 euro se la voglio finanziare le rate partono da 219 euro al mese toyota chr hybrid 28.500 euro nuova chilometri zero daxter ve lo ricordo di 17.300 euro pronta consegna nuova chilometri zero con l'impianto gpl peugeot 5.800 turbo diesel 130 cavalli 7 posti nuova chilometri zero 35.800 euro sperimentate il ttc perché veramente una soluzione fantastica su tutte le autovetture che trovate qui da noi all'autofrancia jeep reneghe 1.600 turbodiesel 130 cavalli limited nuova chilometri zero 24.900 euro ma abbiamo anche le versioni benzina che partono da 19.900 euro abbiamo anche una hyunda icona hybrid che parte da 23.900 euro concludiamo con tipo station wagon 1.600 turbodiesel 120 cavalli ne abbiamo messe 5 a vostra disposizione sconto 60 per cento vostre a partire da 13.900 euro volendo finanziamento zero anticipo le rate partono da 139 euro al mese purtroppo siamo giunti in chiusura come vedete siamo ritornati negli showroom delle autovetture nuove di gamma fiat al felance jeep avete visto solo alcune delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero che l'autofrancia ha messo a vostra disposizione ma ve lo ricordo sono oltre 400 in pronta consegna quindi consegna quasi immediata scegliete solo la vostra autovettura scegliete la modalità di pagamento e ve la consegniamo dopo due massimo tre giorni quindi come vedete all'autofrancia abbiamo la soluzione che state cercando ma facciamo un repilogo di questa puntata vi ricordo che per il mese di novembre gli ecobonus continuano qui da noi all'autofrancia sconti fino 8 mila euro quindi grande grande risparmio pensate che potete acquistare fiat panda hybrid a partire da 8.900 euro lancia y hybrid che parte da 9.950 euro e 500 hybrid che parte da 10.800 euro vi ricordo gli sconti ecobonus e sconti fino al 60 per cento sull'autovettura ed occasione aziendale chilometri zero ne avete viste solo alcune in questo filmato ma consultate il nostro sito autofrancia.it lì troverete tutti i contatti dei nostri venditori e troverete tutte le offerte a voi dedicate oppure telefonateci o veniteci a trovare 7 giorni su 7 quindi non avete più scuse siamo aperti 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica vi ricordo in chiusura velocemente anche i pagamenti all'autofrancia lì scegliete voi sperimentate il ttc zero pensieri chiedete ai nostri consulenti una spiegazione perché avete delle rate veramente bassissime zero imprevisti sulla vostra autovettura e quando volete dopo il terzo anno potete sostituirla all'interno avete assicurazione furto incendio attivandalici eventi naturali la mini casco avete tutto quello che state pensando i tagliandi le estensioni di garanzia quindi non avete costi imprevisti non dovete mai mettere mano portafoglio dovete solo pensare a pagare la vostra rata piccolissima che concorderete con i nostri professionisti oppure ci sono anche i finanziamenti zero anticipo e pensate rate che partono da 99 euro al mese per questo mese di novembre quindi come vedete è veramente il mese giusto per comprare la vostra autovettura targata autofrancia sia che la vogliate nuova con la vogliate usata chilometri zero o aziendale quindi l'appuntamento è qui da noi vi ricordo l'indirizzo anche se ormai lo sapete corso francia 341 torino vi ricordo in chiusura che siamo aperti 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica quindi il posto giusto per comprare la vostra autovettura è proprio qui da noi all'autofrancia vi aspettiamo